E' una colpa che ne sia manco i cacciatori? No, no, no. Questa polemica con la cacciatura? No, no, no. Questa polemica di quei che fanno cosa... Niente, niente alla meta. Non sa cosa che sia, perché qui da WWF chi si è attaccato a fare tanto recranco non sa niente cosa che sia. Questo potrei dire a tutti. Tempo fa che non c'era più uno qua che era WWF e sapevo che volevo domandare. E' arrivato adesso a temer di là chi c'è che fa morire? Stiosi e rane perché i cacciatori non li dovevano mai tirare i sciosi e i rane. Sciosi, rane, e spinarioli poi fossili che si è ancora, quindi che si è più i pesetti che erano pesi fino su basso dovevo altri per là che erano pesi non si lo trovi più. Perché? Perché è una cosa che butta sui campi una volta che mi sova piova, lava e muore tutto. Dopo non c'è più, una volta che erano di Siesoni, parlavo altri dappertutto e Siesoni era, io si trovava da Farnio che aveva l'abita, e se una volta che andavi fuori, ti occupavi 106, una mattina ti occupavi 20-30 volte, appena era finché dovevi. Perché? Perché una volta che ti occupi le sue case la maggior parte. E su tante case io le ho un edificato. Adesso per esempio, e se da Siesoni che faccia una niana, noi non puoi più fare la seconda, noi facevamo tre niana e una volta adesso ne fa una. perché le trova più abita, non c'è più niente. Accesa a Sant'Angio. Accesa a Sant'Angio era piena di osè, piena struttura di piena. Accesa a me. Solo i copi, andavo a Farnio e ti tirai sotto, ti tirai sotto un camion rimorchio ogni tre anni, quattro ti tirai sotto un rimorchio di roba, l'aveva accesa. tornei a Siesoni che veniva finché avevo vivi. Perché io ero i miei copi ora? No, i copi sono sempre qui. Ma però dubito che la caglia ha tanta selvaggina, perché appunto quando ti butti via il diserbante questi tanti ti butti via anche quel gran avevano i sei che muore migliaia, muore no centinaia, migliaia, poi mi trovo la morte, quando torno a casa. Infatti io avevo, l'era do Merlin che veniva qua, due anni fa io avevo trovato i diserbanti la mattina domani mattina vado a vedere se io ho trovato tutti i tanti quindi a colpa del caio di Oseo non c'entra la caglia? non c'entra la caglia? ma non c'è giusto neanche tutte le restrizioni che ha fatto adesso su la caglia? di fare le restrizioni non c'entra niente perché intanto Oseo e Oseo muore lo stesso perchè il parusso io non devo più ne cerare adesso è parusso e sarei cinciabigia in italiano ma io ero insettivora non avevo mai insetti non c'entra sugli alberi ma sono morti tutti i Oseo e tanti Oseo allora adesso la caglia si chiamava la Verla in italiano ho detto che qui ero insettivora una volta andavi fuori a primi giorni da casa a due coppaio anni cinquanta che venivano qua e lì era ogni morale che ero mio se non si vivi non so i vecchi tui pensavo lì a quante ero i tre morali ero mio sul monte in italiano? in italiano siamo rivellonati diciamo ma cosa era adesso è un signor un settivore morto di Oseo un settivore stava uno su un paese una volta che ne erano trenta che cantava la notte i settivori i morti tutti mi sono nato il mese che ero sempre stato lì per conto mio mi dice anche a gente per esempio un cugino che è a Ferrara mi dice che in primavera trova i sacchetti di Oseo morti perché i pomeri i pereri perché da sui veng i morti perché da sui veng poi non i parterra e va a mangiare queste cose per esempio i ragazzi si chiama e lì ero che vive qui a parterra e da sui veng e aveva l'erba e muore anche lì gli evri muore anche lì trova morti aveva un po' aveva un po' aveva un po' aveva un po' i merli sono costretti ad andare a fare i miei vicini e case quando una volta dove si trovava un merlo a casa e mi fanno qua fuori dalla porta le case di merlo tutti i discorsi che fai tutti i quei vengono i crittogrammi c'è chi dice che butta fuori i cacciatori i cacciatori che paga qualcuno a fare crani andare contro il cacciatore purtroppo resteremo senza osei anche se chiude la caccia oggi da qua due anni se un po' 300 osei stanno che vengono ne sarà cinto perché il muore senza andare a cacciare andrà sul monteo? quel tipo di osei ecco qui si salverà un po' sul monteo in Jugoslavia dove c'è tanto bosco che non c'è è un po' Grazie a tutti.